Ho sentito che non ha fatto niente quello là perché è andato in ferie ma cos'è? Lo puoi sgridare tu che io non c'ho voglia? Là mi piace sempre domani non c'è quello che devi fare e non sai quello che ti succede La segretaria è cattiva eh? Un po' più di... Dili una parolaccia Ma no quanto sono vantaggiato per dirgli una parolaccia? Una medio media La parolaccia che inizia con M che sta per cacca si può dire? Sì Corretta Ah sei una merda perché non hai fatto niente? Sei un imbecille Io chiedo scuso sei veramente volgare e stupido C'è ma uno in gamba c'è qui in mezzo oggi C'è questo qua è rimbecillito Sono un po' cargamello ma io sono sul pezzo Questo qua arriva e fa schifo perché non esiste